Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi presento la ristampa di Dead of Winter, gioco della Fantasy Flight Games. In questa edizione italiana a cura di Asmod Italia, che io ringrazio immensamente, come sempre, e di cuore per la copia fornita, torniamo a parlare di un gioco uscito ormai da qualche anno e che ha avuto anche una bella espansione, tra l'altro, espansione che potete giocare stand-alone, senza aver la necessità di comprare anche questa scatola base, veramente molto interessante, perché è un gioco cooperativo, asimmetrico, laddove dovremo cooperare per mandare avanti un shelter, un rifugio di sopravvissuti in un'apocalisse zombie, ma dall'altra parte avremo anche un obiettivo segreto che dovremo andare a compiere per vincere la partita. Qualcosa che fondamentalmente ricorda un po' un titolo come Nemesis, che ben sapete che io odoro, è uno dei miei board game preferiti, laddove si deve collaborare per risolvere dei problemi, delle crisi, ma allo stesso tempo ognuno ha una missione privata da portare a compimento, in un gioco veramente molto interessante e che vi terrà incollati al tavolo, secondo me, per tantissime serie, perché poi una partita veramente tira l'altra. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Dead Winter, edizione italiana a cura di Asmode Italia, è un gioco, come riporta la scatola, dai 14 anni in su, da 2 a 5 giocatori, la modalità in solitario non c'è, ma non funzionerebbe nemmeno, perché il bello è proprio avere una missione segreta che gli altri giocatori non devono conoscere, da solo sarebbe un po' impossibile, della durata dai 60 ai 120, secondo me più verso i 120 che i 60, perché comunque ha delle meccaniche particolari. Questo non è il, poi ve lo direi a un concluso, non è il gioco che mette a tutti i tavoli, ma non peraltro, non perché non possa interessare a tutti. Il tema principale, l'Apocalisse in Zombie, ti deve piacere come tema, però più che altro sicuramente un ragazzino non ce lo metti, perché c'ha tante regole, tante cose da tenere a mente in un gioco assolutamente non complesso, però comunque, che ve l'ho detto, c'ha delle cose da spiegare, delle meccaniche che magari non divertirebbero i più giovani. All'inizio della partita ce ne è data la possibilità di prendere delle carte sopravvissuti e poi ne possiamo ottenere soltanto un tot, in media 2, fino a che non arriveranno 9 sopravvissuti nella colonia, con cui iniziare l'avventura. Avremo la mappa, il tabellone del rifugio, e nel tabellone del rifugio ci saranno tutti quanti gli spazi per mettere i nostri sopravvissuti, ci sarà un tracciato del morale e un tracciato dei round. Regola del gioco vuole che quando il morale arriva a 0, la partita è persa, quindi vuol dire che il morale si è sfaldato completamente. Quando il round rimane a 0, la partita è finita, quindi bisogna andare a vedere se abbiamo compiuto, non soltanto tenuta in vita la base, ma anche fatto l'obiettivo personale. Quello che vi dicevo poco anzi, in presentazione, è l'obiettivo segreto. Nel rifugio ci sono anche e soprattutto una pila degli scarti, che è la pila dei rifiuti, che questo gioco è ganso che quando utilizziamo delle carte, le carte scartate vanno messe nella pila dei rifiuti e per ogni 10 rifiuti, quindi 10 carte scartate che ci sono, il morale scende di 1, quindi bisogna anche stare attenti alle carte utilizzate perché più rifiuti avrete, più appunto il morale dei vostri sopravvissuti scenderà. E delle entrate, dove nella fase crisi entreranno degli zombie, perché il gioco si svolge laddove inizialmente abbiamo la fase del giocatore, dove il giocatore fa delle azioni che vi dirò a breve, e poi la fase del rifugio, la fase di crisi, dove bisognerà risolvere la carta crisi e entreranno gli zombie, gli zombie sia nella base che nelle zone da esplorare e la base ha tutte entrate. Se nella base, mettiamo a caso un'entrata, ha 3 caselle, quindi ci metterete 3 zombie, e ogni volta ce ne viene messo 1 per ogni 2 sopravvissuti che sono nel rifugio. Se magari in un'entrata ci sono 4 caselle, 3-4 caselle, tutte e 4 vengono riempite da zombie e non pulite, gli zombie hanno sfondato le difese, sono entrati dentro la base del rifugio e la partita è persa automaticamente. Ciascun personaggio ha la sua carta personale, dove ha un valore di attacco e un valore di ricerca, espresso, classico, alla wargame, alla warhammer, con un magari 2 o più nel combattimento e 5 o più per la ricerca. Cosa vuol dire? Quando all'inizio del turno voi tirerete la vostra riserva di dadi, che sono sempre il numero di sopravvissuti che avete più 1, quindi nel caso avete 2 sopravvissuti, 3 dadi, tirate questi 3 dadi che sono di tutti i personaggi, non sono di uno in particolare, però ve li mettete nella riserva. Magari è uscito 2, 3 o più e un 5 o più. Sapete che con i 3 o più potete fare l'azione di combattimento, col 5 o più non vi serviva per fare l'azione di ricerca. Cosa dovete fare? Vi dovete spostare nelle zone della città, sulla mappa, come vedete ora a video, mettervi in una casella, nel caso la casella sia libera, e andare a ricercare dal mazzo presente in quella zona. Quindi magari se andate in una farmacia non troverete una K47 o munizioni, ma sarà più facile trovare medicine, magari antibiotici, che potrebbero servirvi per curarvi o per portare alla base. perché anche alla base bisogna fare scorta. Quindi pescherete da quel mazzo e userete il dado ricerca. Potrete fare altre ricerche andando avanti, però per ogni ricerca in più che farete dovrete ovviamente usare l'azione per cercare, quindi anche il dado, ma allo stesso tempo farete rumore. Quindi metterete dei segnalini rumore nella zona. Segnalini rumore, che ovviamente più rumore ci sarà, più zombie attirerete nella fase successiva che vi ho detto, poc'anzi è quella della fase di crisi, dove appaiono zombie, sia nella base che nelle zone esplorate. Per combattere uno zombie si va a tirare il dado, cioè si va a scegliere un dado che superi il vostro valore di corpo a corpo di combattimento, magari 2 o più, ci metto il 3 o più che avevo prima, uno dei due, metto il 3 o più e lo zombie è morto. Quindi se voi riuscite a fare la prova, è morto, non c'è da tirare, è morto. Però ogni volta che il vostro personaggio esplora una nuova zona, o anche torna in una zona dove già è stato, oppure ammazzano zombie, c'è da girare una carta degli imprevisti, perché magari in questa carta degli imprevisti potrebbe essere successo che lo zombie vi ha ferito, vi ha morso, oppure semplicemente, non lo so, siete assiderati o subito una ferita. Nel caso lo zombie vi abbia morso, secondo me è la regola più bella che a me piace di più, consentitemelo del gioco, se lo zombie vi ha morso, dovete prendere il dado rosso, tirarlo e vedere il risultato. Potrebbe non essere successo niente, potreste subire una ferita, oppure semplicemente potreste essere stato contagiato. Se siete stato contagiato avete due scelte, che è la figata del gioco. O fate morire il personaggio, decidete il mio personaggio è morto e il contagio si ferma, oppure semplicemente potreste dire io il personaggio lo tengo perché ne ho bisogno, però il problema che poi il contagio si va a espandere. E per ogni altro personaggio contagiato dovete ritirare il dado. Se non esce niente, il contagio non gli ha fatto nulla. Se invece esce che ricontagia un'altra volta, li contagiate tutti quanti. E per tenerne in vita uno, magari forte, o che ha una missione da portare a compimento, rischiate di contagiarli tutti. C'è una fase votazione per l'esilio, che è un'altra figata di Dead or Winter, che in altri giochi del genere non ho visto. C'è una regola dell'esilio che c'è una votazione, sembra un po' la classica azione di Lupus in tavola, per farvi capire, che è interessante perché voi potete votare l'esilio di un giocatore, non del suo personaggio, di un giocatore con tutti i suoi personaggi e andremo a votare ovviamente con le persone al tavolo. Se vince l'esilio, il giocatore verrà esiliato, continuerà a giocare come tutti gli altri, con la differenza che non potrà più entrare dentro il rifugio. Potrà fare quello che vuole, ma all'esterno lui nel rifugio non entrerà più. Vi ricordo che ognuno dei giocatori ha il suo obiettivo segreto, privato, quindi la vostra missione è quella. L'obiettivo privato, però, anche di tenere in vita la base, perché se il morale arriva a zero, avete perso. Reclutare i nuovi sopravvissuti, perché non ce la farete mai con i due soltanto iniziali, per quanto magari acquisteranno equipaggiamento o altre cose, e all'inizio della partita ci sarà anche una carta missione e all'inizio del vostro turno il giocatore accanto a voi, la vostra sinistra o destra, prenderà una carta storia e ve la leggerà. Quello sarà quello che capita alla storia del vostro personaggio in quel dato turno e magari ci sarà qualcosa da risolvere. Nella carta crisi iniziale, invece, dovete fare quello che c'è scritto. Carta crisi, se portate 4 di carburante, un carburante per ogni giocatore, alla base risolta, se no, che ne so, tutti subiti assideramento, due ferite e meno una al morale. Quindi un po' cose come si sono viste anche in Battlestar Galactica. In conclusione, il gioco è bellissimo, veramente interessante e mi vada ad accodare a tutti quelli che lo hanno detto e mi trovo anche d'accordo, l'ho sentito dire diverse volte in diversi gruppi. Quando viene consigliato, mi consigli, magari mi dai un consiglio per un regalo di Natale, di compleanno, un gioco di sopravvivenza zombie. This War of Mine, ad esempio, indicatissimo. Zombicide, se si vuole una cosa scansonata, tirare i dadi e falciare i zombie per strada, fidatevi. Se volete un gioco apocalisse zombie, ma nel vero stile di Romero o nel vero stile proprio di comunità da gestire, da sopravvivere, per me Dead Winter è il top e l'ho consigliato anche nei 5 giochi di Natale, se avete visto il video precedente, perché proprio per me è come dovrebbe essere vissuta l'apocalisse zombie, in un rifugio tutti insieme, però tutti che si mira a sopravvivere, quindi vita mia, morte tua, come si suol dire. E ognuno ha un obiettivo segreto, che non vuol dire uccidi tutti, però magari vuol dire fai questa cosa e se questa cosa volesse dire che qualcuno deve morire, appunto, meglio per te, peggio per lui. Quindi non è un gioco per tutti, è un gioco per giocatori, secondo me, medi e esperti, non è difficile, però non è per giocatori alle prime armi ai ragazzini. Il tema è forte, quindi questo ve lo dico, il tema è forte anche a volte sulle carte, ci sono delle carte con un simbolino, perché a volte c'è sesso o altre cose e queste carte hanno un simbolo. All'inizio del gioco le potete anche togliere se non le volete mettere via, quindi quelle più forti hanno sempre un simbolino, non le riconoscete con quello, ed è un titolo interessante. Io ringrazio veramente Asmo d'Italia per la copia fornita, se lo volete ordinare, come sempre, primo link in descrizione in sovraimpressione dalla Gioco Libreria Semola, nostro negozio sponsor al miglior prezzo sul mercato e usate sempre il codice discount Coridan7 per avere uno sconto del 7%, se superate la spesa complessiva di 79€, spese postali gratuite in tutta Italia, isole e Europa, quindi anche fuori dalla nazione. Mi raccomando, se andate sul sito della Gioco Libreria Semola e questo gioco non c'è, Dead of Winter non ce l'ha in catalogo, oppure bollino rosso, quindi vedete, copie esaurite, mandate una mail a Corrado, al supporto, al proprietario della Gioco Libreria Semola, al titolare e fatevi presente che arrivate dal mio canale, dal canale di Coridan. Lui che il gioco sia finito o non sia in catalogo, sia appena uscito ed è veramente reperibile, farà il possibile per trovarvelo e appunto darvelo al miglior prezzo sul mercato e usate il codice discount. Quindi sempre un occhio aggiornatissimo il sito di Gioco Libreria Semola, perché per board game, pitture, roba di scuola, giocattoli o quant'altro, è un negozio ragazzi fornitissimo e c'è da perderci veramente una giornata a guardarlo tutto. Quindi è sempre in costante aggiornamento, guardatelo e usate il codice discount. Grazie ancora una volta ad Asmoday, ve l'ho detto, gioco passato a strapieni voti, però non è per me un gioco alla portata di tutti. Metterci un ragazzino qui sarà difficile. Per gli altri, amanti dei giochi zombie, ragazzi, per me è il top, veramente. Ciao a tutti, alla prossima! Se questo video ti è piaciuto, lascia un like e clicca sulla campanella per essere sempre aggiornato, ricevere notifiche e non perderti nemmeno un video in uscita. Primo link in descrizione, primi link che trovate, ricordatevi sempre di iscrivervi anche al canale Facebook, al canale mio di Live Twitch, alla mia pagina Instagram e alla mia pagina TikTok che sono sempre aggiornate e su Twitch mano a mano troverete la programmazione aggiornata con tutte quante le live del giorno. Quindi guardatela sempre perché ci sarà sempre la programmazione aggiornata. Mi raccomando, iscrivetevi soprattutto ai social perché sono sempre aggiornati e se devo comunicare qualcosa, anche per il canale YouTube lo troverete sempre lì. Ciao, alla prossima!